Cambiamo decisamente tema perché parliamo della cosiddetta, di quella che è soprannominata la Dea Bendata perché ha fatto tappa a Bolzano e precisamente a Bolzano Sud alla Bar Marina dove un operaio punta 2 euro al Win4Life e c'entra il 10 da 6.000 euro al mese per 20 anni. Sergio Braghini Colpo grosso al Bar Marina di via Pacinotti in zona produttiva a Bolzano dove un affortunato scommettitore può ben dire di essersi assicurato una pensione da sogno, 6.000 euro al mese per 20 anni. L'uomo, sembra un operaio della zona, ha giocato 2 euro al Win4Life indovinando 10 numeri su 20 e azzeccando pure il numerone portando quindi a casa la bellezza di 1.440.000 euro che per 20 anni incasserà appunto in rate mensili da 6.000 euro l'una. Un colpo che al noto punto di via Pacinotti mancava da parecchio, ossia da quando ancora ai tempi delle lire ci fu una gratta ai vinci da 100 milioni e un 5 da 80 milioni al superenalotto. Come sempre in questi casi adesso è caccia al vincitore per farsi come minimo offrire da bere. Sperando che sia andato a un operaio così almeno se la gode questa pensione. Ma lei grossomodo un'idea se l'ha fatta di chi ha vinto? Forse sì, forse no, però senz'altro è un operaio. Quindi insomma sono andati dove ce n'ha bisogno? Dove ha bisogno. Voi chi e quando vi ha comunicato di questa bella notizia? Oggi alle 15.15 ho avuto la comunicazione per Televro, mi hanno chiamato quello di servizio della Sisa dicendo che aveva una grossa vincita da noi. Sono andato a vedere su computer della Sisa e lì ho visto che c'era dentro la comunicazione che mi aveva detto. E a portare ulteriore adrenalina nell'insolita mattinata al bar marina c'è stato chi ha puntato gli stessi numeri, numerone compreso, ma allora sbagliata. All'Win for Love infatti si può giocare tutti i giorni ogni ora dalle 8 alle 20. Alla giocata delle 11 un uomo ha puntato gli stessi numeri che però per sua sfortuna e fortuna dell'altro sono usciti alla giocata delle 12. Qualcuno aveva fatto la stessa schedina un'ora prima, con lo stesso numerone è venuto fuori e non ha vinto niente. E cosa ha detto questa persona? Irripetibile. Non glielo dico. Grazie. Grazie. Grazie.